Prima campanella oggi per tanti studenti aquilani. In provincia dell'Aquila sono 36.544 gli studenti che tornano sui banchi suddivisi in 1901 classi ed è arrivato puntuale nel primo giorno di scuola anche il saluto d'inizio anno scolastico del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, la dottoressa Antonella Tozza. È trascorso un anno, scrive dal mio insediamento alla guida dell'ufficio scolastico regionale, un periodo intenso durante il quale ho imparato ad amare questa terra con la sua meravigliosa complessità. Sono ancora molte le sfide che la scuola di questo territorio propone e che ogni giorno per le proprie competenze è pronta ad affrontare con entusiasmo. A voi cari ragazzi e ragazze porgo il mio più profondo augurio per un proficuo anno scolastico, un pensiero speciale, vai più piccini, che per la prima volta entreranno in classe, ma non meno importante all'inizio di questo anno per quegli alunni che si troveranno al primo anno di un nuovo corso di studi. A tutti auguro di intraprendere questo nuovo anno con impegno ed entusiasmo. Nuova Linfa, le nostre scuole, giungerà da più di 500 nuovi docenti messi in ruolo a livello regionale. Il mio auspicio è che in cattedra non siedano solo insegnanti, ma portatori di sogni. La scuola deve essere il luogo della democrazia per antonomasia, deve imparare ad esercitare diritti e doveri, coltivando i valori più alti, primo fra quelli della vita e del rispetto reciproco, anche attraverso il ricordo e la conoscenza. Anche il sindaco Pierluigi Biondi ha voluto rivolgere il suo saluto a tutti gli studenti. La scuola è come la famiglia, ha detto il sindaco, un pilastro insostituibile della società. Qualche giorno fa, in occasione della chiusura della perdonanza, ricordai che la famiglia è il luogo da cui la vita si genera, nella comunione delle anime e dell'amore. E la scuola è l'altro pilastro insostituibile, il luogo in cui si genera l'istruzione e la conoscenza, allo scopo di assicurare una sana crescita delle nuove generazioni e di prepararle agli impegni futuri. Con questa riflessione auguro di cuore a tutte le ragazze e ragazze, ai docenti e dirigenti e al personale ATA un buon inizio del nuovo anno scolastico. È innegabile che l'esordio di questo anno scolastico riproponga difficoltà e problemi con sedi provvisori, in alcuni casi con differenti dislocazioni per un singolo istituto. Ma si creda, lo sforzo compiuto dalle istituzioni per garantire a tutti i docenti e allievi di poter frequentare le lezioni in ambienti a norma è stato notevole. In un momento così complesso la collaborazione tra gli enti che hanno, tra i loro compiti, l'assicurazione del diritto allo studio è stata efficace, con il risultato di poter iniziare e proseguire lo svolgimento delle lezioni in modo regolare, pur con qualche disagio. A Ciob ha aggiunto che finalmente si stanno muovendo concretamente i programmi per alcune scuole del territorio. È stato firmato il contratto per i lavori di Arischia, è arrivata a conclusione il percorso partecipativo per la scuola di Sassa, sono in corso le opere per la Maria Leventre di Pettino e sta per partire il concorso progettuale per il polo scolastico Gignano, Torretta e Sant'Elia. Carissime ragazze e carissimi ragazzi, ha chiuso il sindaco, il vostro impegno nelle attività educative che riprendono deve essere massimo, lo studio è dedizione e sacrificio, ma non c'è altro modo per essere protagonisti nella scuola, nel vivere quotidiano e nel mondo di domani, perché tra qualche anno sarete voi al timone della città, della regione, del paese e solo lo studio affrontato con serietà mi metterà in condizione di raggiungere questo obiettivo. Il sindaco ha voluto salutare anche le famiglie, dirigenti scolastici, l'insegnale e tutto il personale della scuola che ha ringraziato per l'incessante e proficuo lavoro svolto per il benessere degli allievi.